L'attesa per la nuova edizione di Ballando con le stelle si fa sempre più elettrizzante con l'annuncio di Tommaso Marini, schermidore che ha recentemente conquistato la medaglia d'argento nel Fioretto a squadre alle Olimpiadi di Parigi, come penultimo concorrente del programma Milly Carlucci, conduttrice storica dello show, aveva anticipato sui social media che proprio nel giorno di Ferragosto sarebbe stato rivelato un nuovo nome per il cast E così è stato punto con un video registrato all'aeroporto, appena rientrato in Italia, Tommaso Marini ha mostrato con orgoglio la sua medaglia d'argento e ha condiviso la notizia con i fan Ciao a tutti, sono Tommaso Marini, argento olimpico nel Fioretto a squadre, e volevo dirvi che entrerò a far parte del cast di Ballando con le stelle Ci vediamo a settembre su Rai1. Il video, postato sul profilo Instagram ufficiale dello show, ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan Alcuni si aspettavano nomi più conosciuti nel mondo dello spettacolo, ma molti hanno accolto positivamente la scelta di includere un giovane talento sportivo come Marini, che potrebbe portare una ventata di freschezza e spirito competitivo al programma Con l'aggiunta di Tommaso Marini, il cast di Ballando con le stelle è quasi completo. Tuttavia, rimane ancora un nome da svelare, e le speculazioni sono già alle stelle Molti sperano che l'ultimo posto sia riservato a Barbara D'Urso, personaggio televisivo amatissimo che, secondo voci di Corridoio, Millie Carlucci corteggia da anni per il suo show La D'Urso, nota per la sua passione per il ballo, potrebbe essere la ciliegina sulla torta per un cast già stellare Attualmente, il cast di Ballando con le stelle include volti noti e amati dal pubblico italiano, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, i cugini di campagna, Alan Friedman, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, Furcan Palali, l'attore turco di Terra Mara, e, naturalmente, Tommaso Marini Inoltre, Mara Maionchi si unirà alla giuria, portando la sua esperienza e il suo inconfondibile carisma Con l'inizio del programma fissato per settembre, cresce l'attesa per scoprire chi sarà l'ultimo concorrente ad unirsi al cast Una cosa è certa, Ballando con le stelle promette, anche quest'anno, di essere uno degli show più seguiti e apprezzati della televisione italiana, grazie a un mix di talento, competizione e personalità affascinanti che sapranno catturare il cuore del pubblico